Ciao ragazzi, eccoci tornati in un nuovo video, video ovviamente post partita di Napoli-Genova finita proprio pochi secondi fa, una partita che diciamocela tutta, non era così scontata in realtà per alcuni era scontata ma non era così scontata come poi, in realtà nemmeno lo è stata dopo perché comunque il Genova fino alla fine ci ha provato, ha preso una traversa, in alcune azioni è stato bravo Spina che ha coperto bene la porta ma in altre azioni poi ci sono stati errori proprio degli stessi attaccanti del Genova che non sono riusciti bene ad inquadrare la porta, quindi la partita in realtà non è stata così tranquilla come alcuni pensavano, anzi è stata proprio abbastanza diciamo complicata in alcuni momenti come io infatti avevo immaginato e come tanti altri, partita che in realtà è andata anche ad alti e bassi perché Napoli non si è visto proprio da subito in partita, c'è stato un primo quarto d'ora di studio dove i tiri non è che ce ne siano stati, anzi proprio il primo tiro in realtà è venuto proprio dal Genova proprio con quella traversa molto pericolosa e poi man mano dell'andamento del tempo con l'andare del procedere del tempo diciamo che alla fine poi il Napoli è riuscito a sbloccare la partita con un cioccolatino di Di Lorenzo sulla testa di Osimian che comunque ha preso bene i tempi e di testa va a mettere l'angolino più lontano dove Sirigu non ha potuto nulla poi a un certo punto si è arrivati al secondo tempo fin quando c'è stato il famoso calcio di rigore ripetuto poi palo di Insigne in realtà sul primo rigore poi con gol di Di Lorenzo poi il rigore è stato ripetuto probabilmente da quello che ho sentito da una posizione errata di Di Lorenzo e poi Insigne ha ribattuto il rigore e ha segnato sempre alla sinistra la partita diciamo che sul 2-0 si era abbastanza poi rimessa sui binari però comunque il Genova, io voglio fare comunque complimenti al Genova perché ha comunque giocato nonostante tutto ha giocato, ha messo in difficoltà il Napoli la difesa nostra non è stata così perfetta come in teoria io speravo la nostra difesa non è stata così perfetta molto spesso siamo dovuti ricorrere a dei falli come l'ultimo di Lobotka dove il giocatore del Genova era andato dritto per dritto verso Ospina Insigne non era riuscito a fermarlo solo un fallo di Lobotka era riuscito a fermare il tutto quindi io voglio fare complimenti al Genova per la partita al di là che abbia perso e ovviamente poi ci sono stati alti e bassi anche a livello di individualità come sempre perché voi lo sapete che io sono molto fiscale su alcune cose preferisco non dare non dire tutti dentro tutti fuori ma diciamo che è stata una buona prestazione però altri mi hanno convinto più di altri quindi però questo non lo dico subito perché lo vedremo poi domani mattina ovviamente nelle pagelle di Napoli Genova detto questo ragazzi io ovviamente siamo contenti abbiamo visto un grande Lobotka in spolvero è tornato in Lobotka dei mesi addietro e siamo contenti e anche Angissà tra l'altro però ripeto queste cose poi ne parliamo domani e detto questo contento per la vittoria ultima in casa di Lorenzo Insigne sicuramente un giocatore che nell'ultimo periodo è mancato molto ve lo dico proprio tranquillamente un giocatore che è mancato proprio mancato proprio alla squadra sicuramente mi dispiace che se ne va le motivazioni per cui se ne va non le voglio più discutere dispiace che se ne va perché comunque il giocatore negli anni addietro ha fatto tanto per il Napoli negli anni scorsi ha fatto tante belle cose quest'anno purtroppo causa vari motivi ha anche il discorso contrattuale purtroppo non è riuscito più a esprimersi e quindi quest'anno non lo valuto non lo valuto però comunque peccato peccato perché comunque se ne va un napoletano che ripeto negli anni scorsi comunque ha fatto bene quindi bene la vittoria abbiamo vinto speriamo di fare anche altri tre punti con con lo Spezia ovviamente io come sempre mi raccomando ragazzi lasciate like iscrivetevi al canale supportate questo canale perché ci sono sempre tanti contenuti mi raccomando detto questo come sempre ovviamente inutile dirvi grazie a tutti